Ancora una strage di cani avvelenati nel Catanzarese. Questa volta le vittime sono Sofia, una cagnolina del territorio, Mansueta, e cinque dei suoi sette cuccioli. I cani sono stati ritrovati morti da una volontaria che si occupava di loro a Gimignano, un comune della provincia di Catanzaro, e quanto si sottolinea in un comunicato dell'AIDA, l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente. Solo due dei suoi cuccioli, detto nel comunicato, sono sopravvissuti al veleno. Il primo perché aveva trovato casa prima della strage, il secondo scampato miracolosamente al veleno che ha ucciso la sua mamma ed i suoi fratelli. È rivenuto nascosto e spaventato, ma per fortuna ancora viva, sotto una macchina in sosta vicino al cortile, dove erano soliti recarsi e dove spesso trovavano delle belle ciotole di cibro pronte per loro. La cagnolina di suoi cuccioli sono stati abvelenati lì intorno e probabilmente da una persona che li conosceva. Subito è scattata la denuncia delle volontarie che le accudivano seppure contro ignoti. Della vicenda, riporta il comunicato, è stata interessata anche l'AIDA, che dopo il contatto con le volontarie a sua volta sta predisponendo una denuncia penale da inviare alla procura di Catanzaro. È inaccettabile quello che sta succedendo nel Catanzarese, negli ultimi tre mesi dove sono stati avvelenati almeno 200 cani e questa è l'ennesima inutile strage che ha colpito dei buoni cani, colpevoli solo di cercare un po' di cibo e l'affetto degli umani, ricevendone in cambio però la morte.